buon ciao agiu eccoci qua dal vostro nonno della rete per una partita di magic tra il nonno con il mazzetto dimmier flash contro contro un bel azorius fly di domenico trovate tutte e due video cioè tutte e due le deck profile sul mio canale vi raccomando seguitemi mettete like al video iscrivetevi commentate se volete partite sicamente il deck profile specifiche o basare su determinate carte un deck e vedo cosa ne può uscire ultimo unica piccolezza che è il deck di domenico a differenza del video che ho fatto manca la carta più costosa che il fu fan del sfruttato perché essendo giocatore di yoke o sono molto for fan diciamo scusa per divertirmi non spendo tanti a mezzico per ammazzo abbastanza forte ci sta tengo solo per non mi vado a fare pubblica e solo per il tuo tempo a fare pubblica il deck e poi lo vedo ok allora sia è i as una i e sono tanti attrappi è ma Ok. Prima avevamo fatto una partita di prova e è successo qualcosa incredibile. Però dato che è giuventino il video non si è... Tutti i dislike di giuventino. Un'altra portatrice. Quanta gente. Siamo a tutta? Ok, ciao Luca. Siamo a tutta? Siamo a tutta. Penso. La portatrice aspetterà. Ok. Vai. Giochiamo col mondo blu. Avevo detto che era Dimir invece. Mi ho trollato. Passo. Mi sta trollando il deck. Più probabile. Di quanto è altro? A fare rientrare? Elefanto. Ti vuoi? Una. 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 è ok? una fattatrice? si dai aspettando il malanero queste sono le tube d'acqua non la faccio arrivare tappata un passo eh tappata scusa piccola 2 e 3 vincola c'è counter penso vedo a te counter di counter? candelata guarda guarda 15 guarda uff uff ok guarda 13 passo ok 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 bel tempo cappa a terra 5 mano libera io non vedo creature nel dubbio gioco un pipistrello gioco un pipistrello ok 4 mano lampo volare in teoria muta però non muto iucchi muto iucchi muto blocco ok guarda 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 la maglietta guarda 11 e 12 28 passi ci sono Pesco, bella carta per pescato, però mi conviene passare, ok, vai, vado, faccio un presaggio, poi ciao, bella carta per pescorso, bella carta per pescato, faccio un presaggio, guardo in mano hai una carta in mano questo 11 la voglio resistere un bel gattone il gattone è entrato sempre il gattone facciamo entrare il gattino il gattino è entrato il gattone è entrato tappo quattro mano faccio uno squalo con mutazione quando muta rimbalzo una creatura visto che muto lei uccido una creatura distruggo la creatura rimbalzo lei e distruggo lei che figo scelta e poi con il mano stappato non faccio niente stappo stappo pesco tempio passo ok ma il top deck di seta ora la seconda non vai non va bene ritorna lo strisciante incorporeo e con lo strisciante gioco una sirema do almeno 3-0 però pesco una carta e perdi 1 stappo stappo pesco secondo me adesso posso iniziare ad attaccare pensiamo si 4-3 e 3-2 7 line passa adesso 20 quando è ora è andata un po' un po' così adesso no ok io no uno tre due tagliacone fine turno pesco marinaio pesco marinaio pesco presaggio pesco guarda 2 tutte e 2 in fondo pesco 1 del presaggio marinaio pesco pesco quando sei andato a 15 patrotti marinaio pesco cartel turno dopo un'altra ventressa ah in tutto questo scusami 6-2-1-2-1-2-3-4 ok una 6-5 e io attacco tutto no perché pure il presaggio è attaccato anzi una serena rimane in difesa sireno in difesa tattere due paradunate ma anche no ok allora se hai un blocco questi qua entrano 4 7 e 6-13 6-13 6-13 guarda che il blocco del più basso mmm blocchiamo questo e blocchiamo questo qua va bene esplodono ti entrano sei danni e mi rifaccio di 2 quindi quanto si passo eh seguirebbe un top deck magico no no wow mi sono passato visto che non avevo niente da fare ci facevamo la partita quando finisci va benissimo finiamo questo stai facendo il video? si quando siamo? 11 minuti ok ti può fare poi così ti lascerò andare al tuo gioco dislike tra l'altro vorrei fare un piccolo messaggio vai già che stiamo se qualcuno della dei buon magic sta sto vedendo sto video ristampate sta cartina m21 e c'ho finito questo cartina m21 e allora quello vuoi fare? non sa che non ristampate vabbè fanno il burn slayer 5-5-5 volare ha capito legame vitale attacchi improvvisi protezione delle drachide ed evoli ma se è farina se è farina eh lo so se è farina se è farina se è farina se è farina fratelli ho preso il muro fratelli 1-0 per il nonno inizia chi ha perso a caso bel tempo va non è tempo più per noi fa bled passos passos bel appio a 1-0 bene preno 18 passo ti conosco ti conosco marinaio ti conosco la giochiamo pure male fatti marinaio 3 mana aquilotta 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 la che vi devo dire ciao due dannette vai alto passo vai alto passo togliavole ok tablet passo passo quanto è convinto questo passo allora il mio pazzo è sempre un pesco paffo citazione ancora un'altra pilotta che non entra eh invece sta entrando addirittura purtroppo qua questi dannetti allora beh ok il risposto faccio passaggio sì cerco palude tutti i messi ancora fuori e mi entro due danni vai e niente vediamo cosa si è messa una cosa di forte uh comunque è comprata questa carta potresti non fate come a me passa ok proviamo a rifarla entrare? oh sì va bene va una portatrice oh sì entra tutto? oh spero di sì eh no prima di inizio devo stare zitto a guardare e devo sperare che mi esca terra infatti ancora una 3-4 però blocco lei e mi hanno dato tre danni e lei diventa un po' più grande vai terra uh va bene passa ok ok ecco ecco adesso che andrà? fa il gatto tanto bella gente io sono 11 e lei non buona stai tappu va la faccio presagio va bene lo ascolto lei sono nel cipiterno 2 vada la rivelo malo e è è è è che parla cosa gli giochi 3, 6, 9 danni 5, 9 danni e mal sicuro, quindi no 4, però poi per questo se c'è turno, turno da proprio mi sa che questa non la risalda faccio una cosa facciamo una white, proviamo 3 mana strisciante certo 1 mano presaggio perdi 1 pesco 1 e mentre la 9 danni vale 2 faccio più 3 vai no, sai che cosa vedi o scia non sa più 1 pali ok eh no, sei partito veloce io non ho avuto proprio risposta questa volta è partito un po' meglio è doppia aquila abbastanza forte però qual'era da ristampare un altro messaggio di gioca a pioneer domenico che ce l'hai tutta, anzi qualche catto pure fatto dell'espansione è una di domani se diventa giocatore di fire e poi di moda e poi black lotus a go go io monto delle mistiche delle contesti mistiche mai viste in due partite e mezzo perché in questa avevo fatto questa partita vabbè anche il turno mi hai chiuso quinto più o meno sì io ce l'ho di nuovo ma anche il sesto ecco si è venuto fatto perdere un turno di di brother Pesco chiamo viste e io profetizzo Pesco Palude, passo Isola Gattone Isola, passo Ok Facciamo un'altra isola Ah qui, no Purtroppo no Facciamo un'altra gattone Ah no, però questo non va a dire male Ma no 18 Strescente Va bene Ah pure a me c'è più di qui Soprattutto a me Ah di più a me Ragazzi C'era abbandonato Ma io ho tutto lo regalo Lo strisciando Con un gattino È vero Sì Ci tengo qua Ci ho provato Passa Una madonna Che ti ho fatto una madonna? Già che stiamo Terzo Eeeh all in All in All in Si gioca solo deck gatto Il gatto formo Magari Perché questo è più grosso? Eeeh all tre Lui è diverso Lui è diverso Mia colpa Ok Quattordici Quattordici Vai Faccio Una strisciante Perdi uno Pesco uno Faccio un marinaio Perdi due E pesco due A forza dei gatti Fiderino E pesca Eh A forza dei striscianti Vediamo Faccio un farbled Sì Sì La pienata paruta Questa è quindici Io la strisciante La butto Lo stesso giorno In attacco Se tappo uno strisciante Cinque Comunicazione finito Te lo vedi Un'altra volta Dove te faccio una cosa? Ti sposto Una pressione Tappo uno Spettro Mi nasca Mi nasca Mi nasca Dic It Quale è 3-3? 3-3-3-3-3-3-3-3 Ok 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 in 2. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. Con quello che mi è uscito, quello è nuove. L'ho muto lei, perdi uno. C'è uno per scuro. Stapo, stapo. Eh, questo è diventato un po' più grosso. Sì. Pesco, cratta e turma. Tu sei a otto. Non credo di più. Vediamo otto. Uno che ha più forti. Tre, cinque, sei. Sette. Però guadagno. Ti attacco il collo. Lei, lei e lei. Che pensi? Questo... Come cosa? Quindi tre, due. Tre, due e due, due. Due, due e tre, anche tre, due. A un mano gioco questo. Guardi, dai. Casi loro scampano un pochino. Direi che questo va qua. Questo blocca a testa. Questo blocca a testa. Dei che c'è un po' di meno. Se non ho lì, dai. Anzi, c'è uno di sette. Dai, due, due. ma però non tutti vogliono risalire voglio rifarmi qualche puntino a vita penso ciao due mano brother due mano brother due mano sottomissione mistica se direi vabbè letivore, letivore io partì uno perché ho giocato la carta con Rambo e poi scomulo e passo e succede niente oltre a tre gatti tre gatti un po' morti è un pochino andato forte forte, importante due mano con la scesa più che forte è sfruttato vai ma abbastanza chiusa però allora anche se hai il pilato in mano eh ma lo stesso un po' troppi danni passo passo no ma non passo per farti no vai vai passo perché io chiudo la bene e non ti rischiare adesso di perdere pezzi parla 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 risposta due mano faccio presagio pesco prima uno peggio uno guarda due tutte e due sotto rigorosamente pesco uno un'altra terra ok è fatta più o meno più o meno ok qua vai due mano faccio braccio di lei due mano faccio la carta specie no non perditi vuoi perditi poterito ah ok quindi se non pensi è stato asservato ok perché dice sono carte con lampo invece questo è un istantaglio solo quando gioco la creatura e pesco stappo stappo e pesco con il quarto furfante tappo 8 mana 6 mana gioco lei e spacco credo una due mana col fatto quando uno non ce li ha e poi grazie mille domenico in questa partita spero che vi è piaciuto sì gol deck ma questa partita è stata proprio un omaggio a dire sì compratere ragazzi dal dal buon nonno sì intendo li faccio a 50 euro l'uno satira scherzo bella